Come vedete questo è lo sportello di Informa Giovani, la sede dove vengono i ragazzi, tendenzialmente dai 15 ai 30 anni e forse ultimamente anche qualche cosa di più, a chiedere informazione su tutti quelli che sono i vari settori di cui si occupa l'Informa Giovani. L'Informa Giovani si occupa di un'informazione per i giovani a 360 gradi, quindi si occupa di lavoro, formazione, tempo libero, cultura, sport e tutto quello che riguarda l'autopromozione, l'impresa, tutto quello che può riguardare le cose che interessano i giovani anche dal punto di vista delle associazioni, del sociale, un insieme di fattori che possono essere richiesti come informazioni e anche come orientamento agli operatori che sono gli sportelli. Gli operatori quindi devono avere una buona capacità di accoglienza di questa domanda. Oltre a questo l'Informa Giovani ultimamente ha scelto di istituire delle collaborazioni con soggetti esterni per offrire anche delle possibilità di approfondimento su alcuni temi. Alcuni temi come per esempio quello del lavoro cooperativo. Noi abbiamo qui a Informa Giovani uno sportello in collaborazione con Lega Coop e Conf Cooperative che approfondisce proprio il tema del lavoro cooperativo. Oppure ha un altro sportello che si occupa dell'accoglienza degli studenti stranieri e provenienti da fuori Genova e anche questo sportello è stato fatto in collaborazione con l'Arsu e con l'Asl genovese per fornire delle informazioni su tutto quello che può riguardare anche la possibilità di poter avere un alloggio ma anche per quanto riguarda le risorse che ci sono nella nostra città anche dal punto di vista della conoscenza di aspetti turistici della nostra città e ancora più per quanto riguarda il discorso proprio dell'orientamento scolastico e un pochino più specifico e anche quello della salute e della sanità.